e si e si e si smetto di fare video e si ragazzi smetto di fare video purtroppo è una scelta difficile perché ragazzi smetto di fare video il lunedì e il giovedì ragazzi clickbait che è bello la gente le views come i moni che scendono dal cielo comunque ragazzi 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 non è un clickbait perché ragazzi per quanto ho detto ragazzi in questo video non lo so manco io perché ragazzuoli cambiamo perché ragazzuoli io vorrei fare molte cose vorrei fare molti video alla settimana soprattutto cambiare format questo video ho fatto già qualche video fa però dopo qualche bestemmia tirata per colpa di mia sorella e mia mamma possiamo continuare col video tutte voi sapete io carico il video lunedì e giovedì certe volte sì certe volte no per problemi o non per problemi o per la voglia o per perché non voglia e va bene ragazzi sono arrivato a una decisione sta diventando un lavoro il lavoro il lavoro sono 214 iscritti non è che posso sì voi direte cosa è successo ragazzi scusatemi allora è successo che mi sono perso tutti i dati delle clip precedenti quindi il video che l'incluso è così per ragazzi se non mi ricordo se l'ho detto riguarderlo dopo a fine editing che io e video ricaricherò martedì e giovedì alle ore quando voglio insomma c'è insomma in poche parole ricarico al giovedì e giovedì all'ora che voglio e niente ragazzi mi spiace per questo accaduto però non posso farci niente e noi se beccamo al prossimo video bella rassuoli ciao ciao